Massima attenzione ai reati ambientali e difesa del patrimonio agriforestale e agroalimentare. Prosegue la collaborazione tra il Corpo Forestale dello Stato e la Procura di Arezzo con ottimi risultati, grazie anche al personale specializzato della sezione giudiziaria del Corpo Forestale attivo presso la Procura. Il Corpo Forestale ci ha dato, grazie ad una particolare convenzione, un supporto aggiuntivo di personale che si aggiunge alla sezione di polizia giudiziaria che, vi dicevo prima, solo nell'ultimo anno ha insieme all'intesa ovviamente con i magistrati che si occupano di reati ambientali che sono coordinati dalla dottoressa Masiello ha gestito la trattazione di 680 procedimenti penali, solo in un anno, il che ha praticamente ridotto a zero almeno per la parte di competenza della Procura, ha praticamente ridotto a zero il rischio di prescrizione dei reati contravenzionali che ancora statisticamente sono il maggior numero dei reati in questa materia. E adesso si aggiunge un altro tassello. È stato infatti firmato il primo protocollo nazionale tra il Corpo Forestale e Medici per l'Ambiente, una nuova e importante collaborazione volta a rafforzare la sicurezza ambientale e agroalimentare della Toscana. Sentiamo le sentinelle sul territorio con un occhio particolare perché sono sentinelle specializzate, sono medici, sono specialisti che quando possono capire, carpire che ci può essere un aggravio e un primo contatto, una prima conseguenza sulla salute umana, immediatamente questo protocollo ci consente di attivarci e noi immediatamente ci attiviamo. Quello della prevenzione del cosiddetto diritto di precauzione, del principio di precauzione che l'Europa, insomma sappiamo che è un principio fondamentale, oggi qua si attua, si attua ad Arezzo ma non si attua su tutto il territorio regionale. Si realizza finalmente questo intendimento, questa progettualità di essere Medici Sentinella in modo compiuto, quindi non solo per informare la popolazione ma anche per segnalare quando necessario criticità ambientali alle autorità.